È una strada davvero emozionante e anche molto utile perché è una strada di beneficenza e quindi stiamo godendo una meraviglia di questi api, di queste ragazze bravissime non sono solo ragazzi, sono anche... Anche dei giovani cadetti della marina militare italiana nostro orgoglio, quando rinascerò mi iscriverò anch'io all'Accademia è uno spettacolo, bello, 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 bello E poi è un modo elegante perché occorre anche in questi momenti qui di fare solidarietà Mi dispiace che in Russia non ce l'hanno, hanno qualche nave in più ma è buona roba Tremendo, è tremendo Ma che è sottomarino ma non lo vedo nessuno Davvero è una strada magica